ma chi è? argentino, non manca italiani e lo so, però andiamo avanti, adesso cerchiamo di inserirci e non si conosce è tutto chiuso sì, è tutto chiuso sì, è tutto chiuso ecco, da qua la vedo se tu fai questo, io faccio con questo questo cosa devo fare, Giacomo? basta che ti dico perché questo registra bene l'audio ma tu prendi un giro andiamo un pochino più avanti andiamoci da dietro a sto coso, te prego tanto più avanti